È stata una scelta difficile perché io venivo da dieci anni che giocavo nel Palermo, ho fatto tutto il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, quindi non è stata una scelta facile. Innanzitutto dopo quello che era successo non ci aspettavamo che il Palermo potesse fare una fine del genere, quindi è stato anche un po' inaspettato, è stata una notizia inaspettata. Però, ripeto, dalla parte della società del Teramo ho avuto grandi garanzie, è comunque una nuova società che si sta facendo nel calcio e nel calcio che conta e ci sono grandi ambizioni. Quindi per un giovane come me era una motivazione in più venire qui. Io il Palermo lo porto sempre nel cuore, lo seguo e spero che ritorni presto anche loro nel calcio che conta. Io sono una mezzala, però mi riesco ad adattare anche come quinto, come ho fatto domenica e anche in altri ruoli, comunque sono diciamo un jolly. Sicuramente sono molto soddisfatto, è la mia prima esperienza tra i professionisti e devo dire che mi trovo molto bene qui a terra. Ho trovato una società, un mister, anche dei compagni che credono molto in me e quindi sono molto felice. Ma intanto è un gruppo nuovo, quindi ci abbiamo messo un po' del tempo prima di, diciamo, ingranare. Poi appunto dopo un po' abbiamo fatto anche cinque vittorie consecutive. Devo dire che questa squadra anche durante la settimana lavora molto forte, quindi penso che col passare del tempo, conoscendoci ancora di più, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il modo di lavorare del mister è diciamo che è rimasto pressoché uguale. Magari lì a Palermo c'era molta più pressione naturalmente, ma ho ritrovato il suo metodo di lavoro, già lo conoscevo. È stato anche questo che mi ha spinto comunque a venire qui. Ma sicuramente sarà una partita entusiasmante contro una grande squadra dove cercheremo appunto di fare il risultato a tutti i costi.